Il mirroring smartphone consente di accedere alle app compatibili sul telefono direttamente dallo schermo multimediale del veicolo tramite Apple CarPlay, iPhone o Android Auto. Ricordate che Apple CarPlay è una applicazione già presente sugli iPhone, mentre l'app Android Auto deve essere scaricata. Prima di collegare il telefono, verificare che tutte le autorizzazioni siano abilitate. Quindi attivare l'assistente vocale dello smartphone per utilizzare i comandi vocali. A veicolo fermo, collegare il telefono alla presa USB del sistema multimediale. A seguire vi verrà fornito un tutorial su come gestire il servizio. Alla prima connessione, autorizzare l'utilizzo di CarPlay o Android Auto. La presenza di questo pulsante indica che il mirroring è accessibile. Le applicazioni compatibili sullo smartphone appariranno quindi sullo schermo multimediale. È possibile, pertanto, programmare un itinerario, effettuare una chiamata, accedere ai messaggi o riprodurre la musica. Il controllo vocale è accessibile premendo e tenendo premuto questo tasto. Vai a Marseille. Le lieux Marseille se trouve a 8 heures et une minute de route de votre position dans une circulation fluide. È tuttavia possibile utilizzare l'assistente vocale del telefono parlando direttamente al telefono senza premere il comando. Se si desidera tornare all'interfaccia dello schermo multimediale è sufficiente fare clic su questa icona.